È un centro d'essa totalmente a trazione estremista, perché la Lega di Salvini è un partito estremista, è un partito lepenista che si proietta su una dimensione che in Europa è espulsa dai contesti di gestione della cosa pubblica, è un partito non scienza, antiscientifico, no vax, che mira soltanto a coltivare le pulsioni e la rabbia della pancia del paese. La pancia arrabbiata guarda con attenzione questo, ma non ha nulla a che fare con il centro d'essa tradizionale di stampo popolare.